Il cuore resta sempre a Piacenza, anche se la vita, già da qualche anno, la trascina in giro per il mondo. Per la 22enne Emma Zadro, avere la valigia a portata di mano è una piacevole abitudine, da quando, una volta completati gli studi al liceo Gioia, si è trasferita a studiare prima nel Regno Unito e poi a Rotterdam, nei Paesi Bassi, da dove ha fatto ritorno qualche mese fa, per intraprendere uno stage in altri media, concessionaria pubblicitaria di editoriale Libertà. Ancora qualche settimana e poi tornerà in Olanda per conseguire la laurea, un traguardo che taglierà con una nuova consapevolezza, ma soprattutto tanti consigli per chi, come lei, pur mantenendo le proprie radici dove è nato, sogna un futuro all'estero. Un consiglio sicuramente è di analizzare bene il Paese dove si va prima, perché ovviamente è un bello shock culturale e bisogna essere preparati, perché non è facile, perché ci saranno tantissime cose che non si capiranno, che non funzioneranno. Allo stesso tempo secondo me può dare tanto, perché comunque incontri veramente persone da qualsiasi luogo del mondo e questo ti può veramente accrescere come persone, insomma. Perché hai scelto di trasferirti in Olanda e cosa hai trovato in Olanda che in Italia non c'è? Ho scelto di trasferirmi in Olanda in realtà per amore, poi questo amore purtroppo non è finito bene, però io ho deciso di rimanere e adesso comunque sto bene, mi trovo bene, sono felice. Volevo sostanzialmente trovare un percorso universitario che fosse più pratico e meno teorico, perché credo che specialmente nell'ambito dei medi e della comunicazione serva avere una preparazione anche pratica e non solo teorica e l'Olanda poteva offrirmi un curriculum di questo tipo. Ma cosa dovrebbe imparare Piacenza rispetto a Rotterdam o rispetto all'Olanda in generale? Una cosa che ho notato molto bella dell'Olanda è che loro tengono molto all'ecologia e all'ambiente e per esempio a Rotterdam ci sono veramente delle piste ciclabili favolose, tutta la gente lì va in bici oppure prende i mezzi pubblici. Poche persone hanno la patente perché le macchine, è veramente un costo avere una macchina, possedere una macchina e pertanto credo che probabilmente Piacenza potrebbe imparare molto su questo lato perché secondo me c'è veramente tanto in Olanda sotto questo punto di vista. Tu stai studiando media e comunicazione, che cosa sogni per il tuo futuro? Il mio sogno è di lavorare nella moda, probabilmente nelle pubbliche relazioni, però insomma non mi chiudo nessuna porta, vedo molto dove la vita mi porta perché ho notato che nella vita se si fanno troppi piani molto spesso poi la vita ci porta in totalmente altre direzioni e quindi sì, vorrei fare tante cose ma allo stesso tempo non mi precludo nulla.